Cosa ci fa Vergasso la Ferrara? Non lo so, però è una città talmente bella che uno deve venire, passare, guardare, fare il turista, memorizzare delle cose. Io sono qua con una troupe perché stiamo girando un nuovo programma per SkyArte che si chiama Sai in un paese meraviglioso, l'abbiamo fatto anche l'altro anno, l'anno prima. Funziona molto bene, quest'anno sono con una compagna di viaggio che è sparita naturalmente, che si chiama Veronica Gentili, che ci sarà già a mangiare a quest'ora perché mi lasciano lavorare solo a me. Facciamo questa roba su SkyArte, questa cosa che pubblicizza un po' insieme a Autostrade per l'Italia questi luoghi dove si arriva con l'autostrada, però si può uscire. Quest'anno lo facciamo andando a visitare tutti i siti UNESCO, sono 18 puntate, stiamo girando l'Italia avanti e indietro, diciamo che luglio potevamo starci alla casa e girarla a marzo, forse era meglio, ma va in onda a lunedì verso le 9 e un quarto sul canale di SkyArte e poi andrà a ripetizione a loop, quindi la vedete per forza. Quindi gente, cittadini di Ferrara, prima o poi riuscite a beccarla, però ci vuole scagliarti, se no ve la fate raccontare.